Non avrei mai dovuto prendere quel pacco. Non sono uno spacciatore, te lo giuro papà. Tu mi credi, vero? Certo che ti credo. Questo è un caso federale, le condanne minime e obbligatorie sono chiare. Jason dovrà scontare dieci anni di prigione. Dieci anni. Fermo! A terra! Gli Stati Uniti contro Jason Collins. Sono favorevole alle condanne minime e obbligatorie. La prego, voglio solo aiutare mio figlio. Se suo figlio aiuterà noi, allora potremo pensare a una riduzione della condanna. Dovrei incastrare qualcuno, papà. Non lo farò mai. E se lo facessi io? Se vi aiutassi io a incastrare qualcuno? Ma lo sai con chi abbiamo a che fare? Si tratta di un ex paramilitare messicano. Controlla la zona per il cartello Nuevo León. Se lavori per noi, diventi uno della famiglia. E lo stesso vale per tua moglie e la tua bambina. Non permetterò mai a nessuno di decidere del mio destino. Mai. Tu fai un favore alla polizia e quando quelli scopriranno che sei un infiltrato, che succederà? Qualunque cosa io faccia o non faccia, Jason dovrà scontarla per i prossimi dieci anni della sua vita. Se segui la droga, prendi pesci piccoli. Se segui i soldi, arrivi al numero uno. Ma sai che lui non tornerà vivo. E se non ce la dovessi fare? Fidati di me. Fidati di me. Fidati di me. Fidati di me. Grazie a tutti